Quello della differenza d'età è un tema abbastanza gigantesco che potremmo suddividere in due parti. La prima è l'accettazione degli altri del nostro rapporto, che però alla fine che ce frega. E poi c'è la questione di quanto sia probabile essere felice a lungo termine con una persona che ha un'età molto diversa dalla nostra. Sono partito informandomi rapidamente sul perché sia più consueto, da un punto di vista storico, che l'uomo sia più grande nel rapporto rispetto alla donna. La prima spiegazione riguarda il fatto che i figli un tempo fossero una fonte di reddito e quindi potessero essere messi a lavorare. E quindi se hai una donna più giovane accanto puoi fare più figli e guadagnare più soldi. Comprensibile ma fortunatamente antiquato. La seconda ragione riguarda il fatto che le donne crescano prima degli uomini, che quindi sarebbero attratte da uomini più grandi per motivi psicologici oppuramente fisici. E questo sarebbe quel famoso è così immaturo, è così immatura che sentivamo tanto al liceo e che tanto mi faceva rosicare. La terza motivazione è che siamo tutti inconsciamente attratti dal potere. E in una società che ha storicamente visto il potere in mano degli uomini, non è così strano che le donne ne fossero attratte per potervi partecipare. E penso ai re e ai nobili del passato, penso al mito del sposare un principe, ma anche più banalmente al fatto che mia nonna non abbia mai lavorato un giorno in vita sua e dovesse chiedere i soldi del parrucchiero a mio nonno. Abbastanza assurdo, no? L'ultima cosa che mi ha incuriosito leggendo un articolo che parlava di modelli e modelle nel mondo della moda è che una carriera di una donna dura dai 18 ai 35 anni. E cito testualmente che un uomo invece curandosi può arrivare fino ai 50. E questo magari anche a livello un po' inconsapevole potrebbe farci pensare che la donna debba essere più giovane. Però mi sembra un discorso tanto antico che non so neanche quanto ne valga la pena di approfondirlo. È abbastanza chiaro che la bellezza possa esprimersi a qualsiasi età. Lo dimostrano anche le categorie MILF dei siti porno. Oggi abbiamo meno regole sull'età che dobbiamo avere nella coppia. Poi, oh, se uno vuole stare solo con ragazze 10 anni più giovani o una vuole stare solo con un uomo che ha 15 anni di più bella lì, però, per limitare così tanto le proprie possibilità mi auguro che tu sia almeno Timothée Chalamet. O Timothée Chalamet. Vabbè, quello buono. Io nella vita mi sono preso spesso scuffie gigantesche per ragazze un po' più grandi di me. Non molto più grandi, 3-4 anni, però è capitato spesso. Penso che adattrarmi fosse la possibilità di un confronto ma forse anche il tipo di vita che facevamo. Io ho cominciato a lavorare abbastanza presto e quindi era più difficile per me conoscere ragazze più piccole. E poi c'entra anche il fatto che forse io mi faccio un po' rincorrere nelle storie e il fatto che una ragazza fosse più grande forse mi aiutava a capire meglio i suoi segnali. Mi è capitato però di stare anche con una ragazza 4 anni più piccola e mi ricordo un certo disagio nel doverle rispondere su WhatsApp mentre ero al lavoro. Perché avere vite simili, fare cose paragonabili ti aiuta anche a capire quanto sia legittimo rompere le scatole all'altro. Se uno sta lavorando è chiaro che non può stare a scriverti tutto il giorno su WhatsApp ma se tu avessi mai lavorato lo sapresti. Dopo queste esperienze mi sono messo a riflettere su come potremmo sostituire questo numero dell'età con altri concetti. Il primo concetto forse è quello della maturità emotiva che sì riguarda l'età perché più cresci più impari delle cose però al tempo stesso riguarda quanto ci rifletti sulle cose che fai. Esistono anche uomini e donne di 35 anni che hanno la maturità di un bambino. Il secondo sono le abitudini di vita differenti. Faccio un esempio stupido ma se io ho 18 anni e voglio andare a ballare tutte le sere l'altro o l'altra ne ha 30 magari lavora il giorno dopo è difficile che possa andare avanti a lungo questa situazione. O meglio magari invece sì però anche uscendo insieme cambiano le abitudini, cambiano i luoghi, cambiano gli amici. Insomma secondo me è sempre un campanello d'allarme se non c'è un cambiamento di abitudini fra i 18 e i 30. Questa è una cosa un po' delicata a dire però mi è capitato spesso di conoscere coppie con grandi differenze d'età e pensare Ah ecco, ora ho capito ma non per un motivo negativo ma solo perché le differenze psicologiche poi un po' si rivelano in quella diversità. Per esempio una mia cara amica ha vissuto dai 20 ai 25 con un ragazzo più grande innamoratissima, una storia importante però al termine ripensandoci si è resa conto di aver fatto lei sempre tutti i passi verso di lui e mai il contrario. Quando c'è tanta differenza d'età specialmente se uno è molto più giovane rischia di avere un'identità non ancora del tutto formata e questo porta magari a uno schiacciamento da parte di chi è più grande nella coppia per motivi economici, perché frequentate i suoi amici, perché siete a casa sua insomma si rischia di ancorarsi un po' troppo a una figura più grande che ti soffoca invece di aiutarti a crescere. E questa mia cara amica mi dice anche di essere sorpresa ripensando al fatto che lui potesse volere una persona così poco complessa, così poco sfaccettata, così ancora non definita e mi dice che senza cattiveria probabilmente questo ragazzo voleva accanto a una persona a cui potesse implicitamente dire come vivere. Quindi insomma attenzione al narcisismo di chi vuole che tu interpreti un ruolo, una relazione senza avere un rapporto veramente paritario. La cosa che personalmente mi sembra più importante è la possibilità di una progettualità comune perché poi sì l'amore è tenuto di grande romanticismo, di farfalle nello stomaco però poi anche le cose pratiche contano. Per esempio se voglio andare a vivere due anni in Thailandia lavorando in un ostello e facendo le feste e l'altro non vuole fare a Milano potremmo avere un problema. Così come potremmo averlo se volessi sposarmi e avere un figlio e il mio partner no invece. Per qualche anno ancora penso che mia figlia dovrà aspettare però siamo in quell'età in cui c'è gente che si sposa e c'è gente che si accoppia con i tombini e tutto sommato hanno ragione entrambi. Penso sia abbastanza chiaro che ci sono persone nate allo stesso giorno che sono in punti diversi così come ci sono persone nate in anni diversi che invece possono andare nella stessa direzione. E poi l'ultima cosa da dire è che stiamo parlando chiaramente di chi vuole avere un rapporto duraturo con qualcuno. Se si tratta di scopo amicizie o di avventure occasionali, fra adulti consenzienti tutto è consentito. Un ultimo inganno legato al tempo è quello del tempismo. Penso davvero che a volte la vita sia un po' una serie di sliding doors e che ci si debba trovare nel punto giusto o al momento giusto. E trovare una persona con cui si allineano i progetti, le abitudini e anche le prospettive è quella che viene chiamata una gigantesca botta di culo dagli esperti. Detto ciò penso anche una cosa piuttosto banale. Noi scegliamo di stare insieme, quindi scegliamo anche di fare dei compromessi, di muoverci l'uno verso l'altro. Non siamo del tutto in balia del caso, per questo mi infastidisce un po' questa cosa del fatalismo. Cioè non è che doveva andare così, l'inizio e la fine di un rapporto sono sempre scanditi da una scelta. Invece di chiederci ma sarò troppo grande, sarò troppo piccolo, chiediamoci più che altro a che punto siamo. E poi domandiamoci se può essere divertente fare un tratto di strada insieme, se andiamo nella stessa direzione. La strada è effettivamente un casino, non c'è Google Maps, ma se trovi qualcuno che ti fa stare bene è più comoda. Indipendentemente dall'età.